Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Iniziamo con l'immagine del satellite e ci mostra il nuovo sistema nuvoloso pronto a raggiungere l'Italia. Tra questa sera e la giornata di venerdì porterà acquazioni diffusi al centro-nord. Ritroviamo questa situazione anche nella distribuzione della pressione al suolo a livello europeo con appunto bassa pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, bassa pressione che però durante il fine settimana tenderà a spostarsi verso i Balcani portando così un miglioramento del tempo. Però in termini di precipitazioni dovremo fare conti soprattutto questo venerdì con piogge diffuse in varie zone del centro-nord. Si tratterà di acquazzoni temporali quindi spesso di breve durata ma localmente piuttosto intensi. Meglio al sud anche se un po' di variabilità sarà presente pure lì. Sabato il tutto comunque tende ad allontanarsi solo qualche residuo piovasco nelle zone interne delle regioni centro-meridionali. E poi infine arriviamo a domenica. Domenica ulteriore miglioramento, alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, sarà una splendida giornata estiva in tutto il paese e anche con temperature come vediamo alte. Per la giornata di domenica però vediamo infatti il ritorno dei 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulle singole località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.